è scattata l'ora solare buongiorno bentrovati per una di quelle fortunate coincidenze del destino uno aspetta un sacco di tempo e nella stessa sede nella nostra tv 2000 perché abbiamo lavorato insieme perché in realtà andavamo a scuola insieme ma lei non lo sapeva io sì e poi ritrova una persona amica cara una grande attrice una ragazza che ha fatto del talento dell'attore lavoro impegno e dono costante al suo pubblico forse anche perché oltre al suo talento un altro talento ha nel cuore quello che le ha lasciato suo padre il grande meraviglioso stefano satta flores lei è francesca satta flores sua figlia e noi oggi abbiamo questa grande possibilità di avere guardate io mi prenderò le mani perché ma adoro questa ragazza la adoro la cosa è reciproca la cosa è reciproca qui è proprio un così è così è uno stare insieme siamo stare insieme è uno stare insieme è uno stare insieme vi racconteremo poi anche quello che francesca sta preparando e continua a preparare per il proprio pubblico ma abbiamo scelto questa questa grande foto che che campeggia troneggia qui all'interno dello studio perché come tutte quelle cose rare preziose lui ha deciso a 48 anni di voltare pagina e di andare in un altrove ci ha lasciato tutti così senza parole tutti noi il suo pubblico tu hai avuto questo papà io continuo a dire papà meraviglioso perché deve essere stato proprio un papà meraviglioso lui sì sicuramente una persona che lascia veramente il segno cioè io adesso 55 anni ma il sì ma lo diciamo serenamente ma è un presente con mio papà questo io non potevo saperlo quando ha voltato pagina come era il 1985 85 infatti andavo al liceo dove tu mi conoscevi io no ahimè mi dispiace perché sennò saremmo diventate amiche e non sapevo allora non sapevo allora quanto sarebbe stata una pagina aperta anche per me su un altrove nel senso che i grandi amori non finiscono è vero i grandi amori si spostano ma rimangono e quindi è un'apertura è un'apertura francesca si le rende il talento si eredita anche nel senso che da un papà così è arrivata una figlia così il il talento del saper recitare quest'uomo che era napoletano papà ed era ed era poi capace di essere tutto attenzione e che porta lo vedremo tra poco ma al cinema e poi al teatro tutta questa sua arte capacità un papà così tanto francesca come come lo gestivi tu beh ecco era un papà tantissimo poi ahimè giustamente per il suo lavoro per la ricchezza della sua vita era poi tra virgolette poco temporalmente quindi il gestirlo era diciamo gestire un'assenza e una presenza e però evidentemente proprio il disegno divino ha fatto sì che questo sia il segno del nostro rapporto una presenza e un'assenza papà famiglia di sette figli si era una famiglia grande grande la cosa che mi ha sempre mi ha sempre così dato da pensare la sua mamma è morta a 103 anni l'ha visto andar via purtroppo e noi eravamo eravamo super preoccupati al di là del mente insomma di quello che è stato perderlo ma eravamo c'era la pena enorme di questa donna per questa donna di 85 anni e devo dire che in famiglia ora lo possiamo dire pensavamo che non sopravvivesse ma l'amore perché lei era una di quelle cariche d'amore che ha ricevuto mio padre nella sua vita l'amore l'ha fatto andare avanti ed è stata con noi fino a quando lei ha avuto 103 anni quindi più di questo non le potevamo chiedere veramente non ci poteva chiedere il tuo il tuo papà napoletano molto direi un'esplosione di uomo che porta questa sua malattia va bene erano altri tempi tutto quello che volete stefano sette flores tace tace col suo pubblico tace in parte anche con con la sua famiglia sì io credo col senno di poi e appunto anche questo proprio con sì col senno di poi diciamo che si sia protetto anche in questo perché ora che sono grande parecchio mi rendo conto che è complicato essere adulti no a 17 anni si capisce fino a un certo punto quanto è complicato essere adulti poi da adulti si capisce di più quindi ora mi rendo conto che lui si è anche protetto ha protetto delle relazioni come appunto la mia come quelle più strette cercando di far sì che la malattia non lo privasse e di fatto non lo ha privato lui è stato malato 4 5 anni appunto non ho le idee super chiare però ci andiamo vicino a una chiarezza e in quest'ultimo periodo lui si è ridato al teatro quindi è stata per lui la malattia comunque una fonte una motivazione di incontrare le cose che più amava non che non amasse il cinema ma il cinema poi era cambiato ma la storia si era evoluta e lui aveva un appuntamento col teatro e come autore perché lui negli ultimi anni della sua vita ha messo in scena le commedie che lui e non solo lui anche collaborazione con marina pizzi aveva scritto e poi ha dato alle scene con lui stesso quindi è stato un grande darsi e questo è stefano sattaflores a teatro quel rapporto che si crea per un grandissimo attore che lo scopriremo tra un attimo grandissimo attore di cinema però sia cominciare a rivedere negli occhi il pubblico le persone recitare tutte le sere ma ogni sera non sarà mai uguale quello che hai fatto ma francesca ha recitato mai con papà si domanda inutile perché la risposta è sì ma ci provo quando ecco quando parlo della mia vita mi dico proprio io non poteva andare diversamente non potevo fare non so l'ingegnere perché dopo aver debuttato con papà a 15 anni ahimè io ci ho provato a fare altro tu lo sei bene ho provato a fare l'archeologa del vicino oriente certo ecco ci ho provato con tutto l'impegno e invece adesso sono qui che faccio l'attrice e il lavoro in questo campo perché appunto debuttato con papà e anna maria akkerman la strepitosa anna maria akkerman in pomeriggio di festa che era questo spettacolo che ha debuttato all'epoca al festival di benevento nel 1983 e tu cosa facevi facevo la figlia la figlia di papà e anna maria akkerman quindi niente poco di meno che e questa cosa ovviamente ti segna poi fu uno spettacolo che fu portato in turni tanto io quando potevo andavo quando non potevo c'era qualche sostituta locale siamo stati tanto a teatro al teatro diana di napoli però siamo stati tanto alla sala umberto di roma e sono quelle cose che ovviamente non se ne esce più allora non potevo fare altro non potevo fare l'ingegnere peccato perché francesca satta flores è lo dico lo dichiaro una persona che a 360 gradi è cultura e la conosce a memoria 34 canti della divina commedia di dante alighieri mettete un segnetto su dante alighieri cioè sul padre dante un asterisco d'oro accanto al nome di dante alighieri e mettete sotto quello di francesca satta flores ve lo raccontiamo tra un attimo ma sta per entrare in scena sta per entrare in scena satta pubblicità allora per parlare io rido perché sapete quando ti trovi proprio con delle amiche e quindi in realtà stiamo lavorando ovviamente stiamo lavorando per voi ma è una gioia grande 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 allora per ricordare stefano satta flores quel grande luminoso meraviglioso attore andato via così presto e rimasto nei nostri cuori per sempre come esempio anche umanamente parlando di cosa voglia dire la correttezza dell'attore verso il suo pubblico non solo sua figlia francesca satta flores splendida attrice e non solo ma gli occhi di gatto gloria santa è una mania ci manca fiamma satta che noi facciamo e abbracciamo la nostra fiamma gloria eccoci la della legion d'onore in francia non c'è scampo gloria santa ovvero il cinema satta conoscevi ma come non solo lo conoscevo tuo papà ma eravamo anche amici e stavamo dicendo prima in una pausa che abbiamo passato metà del tempo purtroppo breve che abbiamo abbiamo passato insieme a smentire l'uno e l'altro di essere parenti perché quando tu ne scrivevi in maniera ne scrivevo spesso splendida perché lui era quest'attore ce lo puoi raccontare esatto tu dal tuo luminoso punto di vista esatto ogni volta che scrivevo mi diceva ma certo è tuo cugino ma certo è figlio di tuo zio ma no non c'eravamo mai visti prima c'è il satta che indica tutto il talento poi c'era i flores che non vi era un uomo straordinario si dice sempre e fa parte un po della retorica però era straordinario sai perché perché io l'ho conosciuto negli anni settanta in cui c'erano tanti attori impegnati l'impegno era quasi una moda si portava molto l'attore impegnato lui era un uomo coltissimo aveva alle spalle una cultura sterminata una carriera costruita nel modo più nobile col teatro col sacrificio eppure mai e poi mai traspariva tutto questo era una persona che non non dava non se la tirava potremmo dire oggi portava questo suo patrimonio personale con una eleganza e con una simpatia e con una grande ironia insomma devo dire che per me che avevo a che fare giornalista ancora alle prime armi cominciavo il mestiere entusiasta conoscevo tanti di questi possiamo dire una parola erano un po diciamo anche molte mongolfiere un po tromboni se vuol dire ecco che si beavano della propria cultura e del proprio impegno politico sottolineato lui era tutto questo ma non lo faceva pesare a nessuno ed era simpaticissimo un uomo simpaticissimo divertente che poi arrivava davanti alla cinepresa sulle tavole di un palcoscenico con una naturalezza come quasi non recitasse francesca e era questa questa sua dote la conservava anche fuori assolutamente infatti sono molto contenta di di questo che stai dicendo grazie perché tante cose appunto per me sono scontate ma in effetti e lui aveva questa proprio genuina sincera profonda semplicità genuina sincera profonda semplicità che bello sentirlo dire se ne accorge un geniaccio che firma il suo primo film da regista corre l'anno 1963 lei è lina wertmüller e il film se non l'avete visto cercatelo a tutti i costi è i basilischi stefano satta flores a proposito cercavo proprio a lei a me avrà notato che parecchio che l'ho notato e beh beh signorina io voglio sperare beh insomma che non vorrà deludere il mio sogno lei è un serio ragazzo vero e mi piace però ci deve pensare la risposta fra tre giorni benissimo a proposito lei esce sempre con un'altra ragazza e chi una ragazza a mia cugina ci sarebbero due pretendenti anfusi e petrolli gliele parlerò la risposta fra tre giorni come si fa io non lo sapete dio benedica ma veramente gloria beh veramente questo è un capolavoro è un capolavoro perché è il primo film di lina wertmüller donna già regista donna all'epoca era una cosa eccezionale 63 eh 63 regista donna di commedia poi che osava prendere in giro i maschi cioè una deflagrazione questo è un film importantissimo perché veramente è questa commedia che prende in giro così l'indolenza il patriarcalismo come dire congenito dei ragazzi del sud che stanno in questo paesetto immaginario che può essere Basilicata al confine con la Puglia eccetera e non hanno voglia di far nulla se non guardare i ragazzi c'è quel meraviglioso dialogo sulla balaustra sul panorama che parlano delle cosce delle ragazze del paese che è un capolavoro è veramente straordinario e Francesco il protagonista che ha questa ma l'avete visto nelle minime cose ma insomma ogni volta che lo si rivede questo film uno si sente bene Francesca quanto hai scoperto di papà giocoforza dopo quel 22 ottobre dell'85? guarda non ho finito di scoprire io ti posso solo dire che no ma sono all'inizio cioè devo anche sbrigarmi perché poi voglio dire no c'è un'età però no io mi rendo conto che è tutto da scoprire io naturalmente i basilischi l'ho visto qualche anno fa perché io non ero neanche nella mente di nessuno quando l'hanno girato ovviamente e peraltro non si trovava ma sono anche tante altre cose tanti film, tanti lavori di papà tantissime cose io invece lo devo dire 15 volte visto diciamo tra gli anni 72 e oltre perché a casa mia era una sana abitudine vedere, 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 rivedere e poi succede una cosa nel 1974 c'è un genio assoluto che ci manca tanto ci mancano tanto queste persone che vuole dedicare al suo maestro genio inarrivabile Vittorio De Sica il suo film lui è Ettore Scola e il film è, lo dico con la pelle d'oca c'eravamo tanto amati Ma è cos'è Luciana? Sì, è lei Cappio Ui, me la presenti? No, lascia stare non mi pare non mi pare non mi pare Luciana scusa eh questo è Nicola il professore la signorina Zanotti Ah, piacere come sta? A Roma? Sì, mi s... oh mi scusi mi sono trasferito per lavoro Eccola tu mezza picchia po' picchia po' picchia po' che scossa e sa? Manso con pomodoro e cipolla Pomodoro e cipolla li vedo manso un po' un vino Assormai ci stanno 5.830 tattori a Roma c'hai ampia scelta Eh ma è una cosa... Allora Gloria Nino Manfredi Vittorio Gasman Stefano Sattaflores e Stefania Sandrelli Stefania Sandrelli questo è uno dei punti più alti del cinema italiano senza retorica senza paura di smentite è uno dei film che meglio di tutto illustrano la genialità del cinema italiano la commedia che si fa a tragedia che è velata di amarezza è la storia è un pezzo di storia italiana perché questi tre amici si conoscono durante la resistenza poi si ritrovano ognuno incontra il suo destino e sono tutti più o meno falliti frustrati non riescono a dare corpo a quel sogno che avevano ed è una commedia umana meravigliosa c'è questa donna che fa innamorare loro e il personaggio di Stefano che è questo professore che torna poi a Nocera inferiore alla società ed è critico cinematografico appassionato di neorealismo questo personaggio fa da detonatore agli altri due mostri sacri devo dire che proprio è un detonatore fa esplodere la commedia in sé e valorizza poi tutto il lavoro degli altri uno che valorizza gli altri esatto ed è molto bello perché lui è carico di umanità è tutto vero fa il critico cinematografico che poi lo rifà pure nella terrazza no? che è un altro film di scuola molto importante qualche anno dopo quindi devo dire che è proprio uno dei film più belli che siano stati fatti dal cinema italiano in assoluto di ciò che il cinema portasse e continua a portare per nostra fortuna insomma in un tempo tanto oscuro valori, valori, valori ad un certo punto è nella sua città Nocera inferiore guardiamo sentiamo il signor farmacista esposto sacro santo il professor Palumbo fomento l'odio sociale è la parola fomenta e soprattutto offende le tradizioni morali di Nocera inferiore Nocera è inferiore perché ha dato in adaria individui ignoranti e reazionali come voi tre salve Nicola Nicola basta la misura è colma con buona pace in tutta Nocera inferiore sia chiaro ma mamma mia però la dice in una maniera in una maniera Francesca che è stupenda è stupenda è stupenda e lui avevano ci consultavamo appena visto ladri di biciclette ladri di biciclette il lavoro del neorealismo perché lui era proprio specializzato mistica l'odio sociale mistica l'odio sociale i panni sporchi non si lavano in famiglia si lavano in famiglia insomma la sappiamo Vittorio De Sica se lo sentire a dire anche per Umberto D esatto la sappiamo la sappiamo molto bene allora c'è un film c'è un film più recente che è del 1984 ed è Cento giorni a Palermo la regia di Giuseppe Ferrara Stefano Sattaflore si indivisa il braccio destro del generale Carlo Alberto della Chiesa e Francesca adesso arrivo tra un attimo da te e Gloria Satta era su quel set sì io andai su quel set ed era set insomma il generale della Chiesa era stato ucciso due anni prima quindi era ancora vivissimo il sentimento lo sdegno la passione civile degli italiani e fecero questo film con Lino Ventura che faceva il generale della Chiesa allora io andai il giornale mi mandò e fu bellissimo perché fu molto emozionante andare lì e tra l'altro lì io conobbi il giovanissimo aiutoregista ma un ragazzo sconosciuto era un certo Giuseppe Tornatore eh i pianeti si allineano tutti e lì io parlai chiacchierai nelle pause della lavorazione e io dissi però sto ragazzo tornai ho conosciuto un ragazzo veramente in gamba questo la sallunga sul cinema ma ce lo ritroviamo qualche anno dopo con l'Oscar in mano con l'Oscar con l'Oscar in mano hai detto un uomo che difende i propri ideali ecco Stefano Santaflores nel nel cinema nel suo lavoro di attore in fondo è sempre stato capace di assomigliare tanto tanto all'uomo che è stato nella vita no? era un uomo corretto era un uomo molto corretto non a caso questo che Cento giorni a Palermo è stato l'ultimo film l'ultimo e lui l'ha fatto proprio perché era quel film perché era già il periodo in cui lui faceva teatro era tutto del teatro e col senno di poi non stava aveva insomma delle energie limitate ma quel film si doveva fare quindi è un po' questo anche un po' un segno è un segno tenete conto che se voi ascoltate Harrison Ford nella trilogia di Star Wars la voce è di Stefano Santaflores e poi e poi ce ne ho la metà di mille Gabrielle Bernan e Cristoforo Colombo televisivo tutto papà era con quella voce poteva fare ciò che voleva insomma era anche ha fatto tantissimo doppiaggio anche con amore devo dire oltre con impegno ma con amore e passione e fin qui Stefano Santaflores e adesso io mi sprego le mani perché Francesca Francesca lavora a teatro recita a teatro ha una scuola di teatro porta le persone al teatro soprattutto sì ecco la cosa sostanziale è che ho cercato di smettere cioè tutti mi siete testimoni che io ho provato di fare altro ho provato a fare altro appunto facendolo benissimo l'ingegnere mi mancava qualche numero ma appunto facendo l'archeologa del vicino oriente ci ho provato una cosa lontanissima non ce l'ho potuta fare archeologa vera sono laureata in archeologia del vicino oriente antico quindi sono anche andata a scavare a Ibla con il meraviglioso Paolo Mattia sì sì quindi vera ci ho provato non ce l'ho fatta perché c'è qualcosa evidentemente di più forte allora ho detto ok voglio contagiare quante più persone possibili la possiamo vedere anche da un punto di vista un po' così sadico ma invece è una cosa bella perché il teatro è una cosa bella il teatro è una cosa bella certo che quando una è attrice attenzione lei porta il teatro nei licei sì in tutti i luoghi sì dove anche solo un ragazzo o una ragazza possano dire mi piacerebbe fare quella cosa domani no? e ci riesce poi ha ideato ha scritto è il regista attrice di uno spettacolo che si chiama signora Dante Alacarte mi aiuti Dante Alacarte come se fosse un menù sì sì è un menù allora si si apre e si apre ovviamente dall'inferno certo all'inizio è quello ci sono un po' di canti tutti al dente non vi preoccupate tutti perfetti il sapore è ottimo segue Purgatorio e poi per il dolce si chiude con il paradiso la particolarità cara Gloria è che i 34 canti della Divina Commedia lei li sa tutti a memoria come hai fatto come hai fatto no e questa è anche un'altra cosa diciamo divertente 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 sì divertente che alla fine non è poi così lontana dalla traccia di papà e nel senso che c'è una grande verità cioè io mi sono ritrovata a 23 anni a cominciare a imparare la Divina Commedia per puro diletto mentre facevo l'archeologa del vicino oriente e ho continuato 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 due anni fa quando facevo invece la regista la formatrice teatrale mi sono detta ma io so 34 canti della Divina Commedia sono un'attrice e ho fatto uno più uno e lì è nato lo spettacolo che vuol dire alla carte però alla carte vuol dire che abbiamo pensato di cui abbiamo perché nella mia io ho questa associazione culturale con la quale veramente lavoriamo in maniera meraviglioso il flottant e con la quale appunto partoriamo nascono queste idee e abbiamo deciso di esaltare l'aspetto umano pop teatrale della Divina Commedia e cosa c'è di più conviviale di un ma vuol dire che io pubblico posso chiederti un canto è proprio così signori ah e mica me la faccio sfuggire questa occasione Francesca Satta Flores purgatorio benissimo purgatorio tutto inferno paradiso purgatorio purgatorio il numero che amo canto ventunesimo posso domandarglielo ma naturalmente la prego ma come no ne faremo un pezzetto sì e perché in questo canto in questo canto succede perché nel menù oltre al numero del canto c'è anche come nei piatti c'è la descrizione del piatto così c'è una brevissima descrizione del canto in questo canto Virgilio incontra un suo grande fan non se lo aspetta Virgilio è lì che cammina nel purgatorio fa lui la guida ha questo ruolo anche se nel purgatorio non ha le idee tanto chiare Virgilio ma proprio questo è bello ed è un aspetto umano incontra un suo grandissimo fan Stazio il poeta latino che parla dice delle cose e a un certo punto dice e per esser vivuto là quando visse Virgilio assentirei un sole più che io non deggio al mio uscir di bando volser Virgilio a me queste parole conviso che tacendo disse taci ma non può tutto la virtù che vuole che pianto e riso sono così seguaci della cagionda che ciascun si spicca che men seguon volerne più veraci io pur sorrisi come l'onca micca perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca e se tanto labore in bene assommi dissemi perché la tua faccia t'è steso un lampeggiar di riso dimostromi orsoni io d'una parte d'altra preso l'una mi fa tacer l'altra scongiura che io dica ond'io sospiro e sono inteso dal buon maestro e non aver paura mi dice di parlar ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura e dio forse che tu ti maravigli antico spirto del rider chiofei ma più d'ammirazione bocchetti pigli questi che guida in alto gli occhi miei è quel virgilio dal qual tu traesti forza a cantar degli uomini e di dei se cagionaltra al mio rider credessi lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui dicesti signori questa è Francesca Santa Flores e noi non ci alziamo i piedi perché siamo solo due io e Gloria Santa brava meravigliosa meravigliosa bravissima questo è un esempio è un assaggio perché diciamo nello spettacolo c'è anche la spiegazione dopo aver sentito i versi prima di sentire versi in modo che sia tutto quanto un po' un po' andiamo 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 dante dante alla carta va in scena dal primo al 3 marzo alla sala lisistrata di roma sala lisistrata di roma siamo nel meraviglioso quartiere di testaccio sala lisistrata questo spettacolo è andato a Ostia è andato anche a Firenze quella è stata la prova del fuoco lo mettiamo in scena da qualche anno nella città di Dante allora Francesca Satta Flores la scena è questa fuori dal liceo Plauto io vedo questa bambina che aveva una lunghissima treccia una treccia così lunga così grande così bella c'era il suo papà fuori da aspettarla e c'eravamo tanto amati era appena uscito nelle sale io ero appena andata a vederlo con i miei genitori e lo guardai da lontano quello splendido attore e tornai a casa emozionatissima dicendo papà l'ho visto Stefano Satta Flores grazie Francesca grazie a voi Flores Satta che voto dai a cotanta figlia eh? che voto dai a cotanta figlia ma non lo so 12 su 10 che ti devo dire no mi emoziona profondamente perché tu lo ricordi fisicamente ma lo ricordi anche nel modo di parlare tantissimo cioè proprio è stato un'emozione grande veramente è stata una persona cara cara che ho stimato tanto come professionista ma anche ho avuto dell'affetto per lui perché era veramente una bellissima persona signori qui in quanto a bellissime persone io oggi ne ho da vendere da appendere come si suol dire Satta Satta urrà Flores e con un bacio sempre a fiamma Gloria Satta Francesca Satta Flores torno a trovarci un carissimo amico Don Francesco Cristofaro per il quale abbiamo preparato queste immagini sono immagini così belle così importanti per tutti noi grazie a tutti che ci sono che ci sono non interrompete mai il vostro viaggio con maria continuate a camminare accanto a lei la mamma bellissima sarete al sicuro come coloro che si pongono sotto il suo manto a dire queste parole dopo che abbiamo visto queste immagini immagini di grande devozione chi questa devozione siamo molto contenti di ciò ha deciso di raccontarla anche in un libro e lui è un amico dell'ora solare è stato con noi dal primo istante don francesco cristofaro che sono così felice di vivere qui con noi grazie don francesco bentornato grazie sono felice anche io di essere qui bentornato allora parroco della chiesa di santa maria assunta di simeri crichi in provincia di catanzaro quante volte l'ho detta questa cosa e continuo a ripeterla quindi salutiamo anche tutti i parrocchiani e quest'anno il 9 di aprile diventi maggiorenne si don francesco sì perché sono i miei primi 18 anni di sacerdossio ma tanti auguri tanti auguri tanti auguri una scelta bella importante importantissima che è in parte anche raccontata non è la prima volta che tu scrivi un libro ma in questo libro edito dalla burra rizzoli le vie di maria storie di pellegrinaggio e conversione all'urde fatima e meggiugorie queste storie che sono tante ora tu ce ne parlerai e sono intrecciate con la tua e proprio così intanto questo libro nasce proprio come dedica a maria per questo diciottesimo anniversario di sacerdozio perché appunto maria è stata questa mamma bellissima sempre presente nella mia vita fin dal da quando ero piccolino fin da quando avevo l'età di otto anni quando un giorno sono andato dalla mia nonna che era seduta al focolare di casa mia lei era in lutto perché dopo la seconda guerra mondiale era morto il marito quindi donna calabrese col fazzoletto nero in testa con il gonnellone ampio nero e aveva in mano questa catena del rosario e io le dissi nonna ma che cos'è questa catena che tu hai in mano e che cosa dici bisbigliando che non ti capisco e lei la nonna mi insegnò la prima preghiera l'ave maria e da allora eccola qui quanto è bella mi commuove vederla tantissimo e da allora io costruì questo primo altarino alla madonna raccolsi due papaveri rossi e tre margherite gialle ricordo ancora il numero avevo otto anni e cominciai a pregare l'ave maria solo che era una preghiera un po egoistica perché chiedevo la guarigione fisica allora ci fermiamo un attimo su questo punto che è molto importante don francesco ne fa un punto di forza perché sia di forza agli altri partendo dalla propria esperienza perché sia di esperienza agli altri perché possa aiutare gli altri noi ci fermiamo soltanto per un istante ma vi aspettiamo qui perché noi aspettiamo il ritorno degli amici e quindi di conseguenza aspettiamo anche voi a tra poco l'ora solare il nostro carissimo don francesco cristofaro che torna a trovarci e noi siamo molto 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 felici allora don francesco quest'anno il 9 aprile l'abbiamo detto poco fa festeggi i suoi 18 anni di sacerdozio e ai luoghi mariani ai luoghi che appartengono alla devozione mariana e sono devozione mariana don francesco dedica questo suo ultimo libro le vie di maria storie di pellegrinaggio e conversione all'urda a fatima a me giugorie edito da burrizzoli allora don francesco eravamo ai tuoi otto anni a questo tuo primo altarino quando tua nonna tua nonna carolina ti aveva insegnato che quella catenina fosse il rosario no quelle fossero le prime preghiere e tu hai detto facevo delle preghiere che erano potevano essere viziate di egoismo perché pregavo per poter tornare a camminare eri un bambino che da subito tu questo l'hai raccontato tante volte si è trovato di fronte a questo a questa salita difficilissima è proprio così perché praticamente io avevo da una parte i bambini che rivolgendosi alle loro madri dicevano poverino perché cammina così e poi dicevano tu non puoi venire con noi a giocare non puoi venire con noi al fiume quindi a me questa vita non piaceva anche se ero un bambino però questa essere escluso da tutto e da tutti non mi andava giù e andavo anche dalla mia mamma e le davo la colpa e colpa tua se sono nato così e davo la colpa anche alla madonna perché un bambino che prega il diritto di essere ascoltato però io non venivo ascoltato perché questa guarigione non avveniva allora un giorno le ho detto mi perdona la madonna le ho detto che lei era una mamma cattiva però la madonna non è una mamma cattiva perché la madonna è una mamma bellissima dolcissima ed è sempre presente poi lei sa quello che fa infatti le come tutte le mamme mi ha preso per mano e mi ha portato per una strada bellissima mettete io dico sempre un asterisco a quanto appena detto da don francesco cristoforo perché in questo libro le storie sono tutte storie di persone che ad un certo momento hanno una reazione o possono avere una reazione negativa e che ottengono dalle loro preghiere forse molto più della guarigione che poi è la storia della tua vita don francesco tu hai una mamma meravigliosa tu hai una famiglia meravigliosa io l'ho conosciuta e genitori che non si sono mai stancati di accompagnarti di accompagnarti la fisioterapia di aiutare non di aiutare di sostenerti ma queste preghiere sono diventate ad un certo punto devozione per te e sono diventate sacerdote che tu da 18 anni sei e io non so che sacerdote sono però è una cosa la so che la madonna non mi ha mai abbandonato e quando dicevo alla madonna che lei era cattiva ed ero adirato con lei e il parroco di quel tempo mi chiamò e mi regalo questa statuetta che oggi ho voluto condividere con te con tutti i tuoi amici e con tutti e tanti telespettatori dell'ora solare che cosa ha di particolare questa madonnina a queste braccia allargate no e le braccia allargate sono segno di accoglienza non c'è un figlio che non ha che non è degno di essere abbracciato da maria non c'è un figlio che non è degno di essere accolto e stretto al suo cuore la mamma accoglie tutti i figli indistintamente indifferentemente quindi ecco quando vi sentite un po giù quando c'è qualcosa che non va nella vostra vita quando come me vi arrabbiate perché magari volete essere ascoltati rifugiatevi in quel cuore io ho un motto o una giaculatoria che un po l'ho copiata e un po l'ho formulata gesù confido in te maria mi abbandono a te allora questo questo abbandono che ha che ha fatto della tua vita qui nel frattempo vediamo la foto dei 70 anni della tua mamma donna di ferro donna dolcissima ma donna di ferro donna che come dire ti ha aiutato sostenuto lo ripeto e con te e tutta la tua famiglia ecco ti ha aiutato a ad aprire il cuore come sacerdote e come persona al racconto di tanti dico tanti perché ognuna di queste storie entra dentro altre storie cioè proprio a grappolo come il grappolo d'uva no si parte da un punto per arrivare ad altro tu racconti i diversi luoghi di devozione da l'urda a fatima me giugorie e racconti persone che ci sono arrivate ci si arriva per volontà ci si arriva perché uno vuole veramente andare o ci si arriva perché qualcuno ti chiama e tu arrivi fin lì esatto qualcuno ti porta ti invita qualcuno ti dice io ho fatto questa esperienza vorrei condividerla con te e della storia di alcuni dei protagonisti di questo libro e tu all'inizio del blocco hai parlato di viaggio citando le mie parole in quarta di copertina ecco questo libro è un viaggio si parte da l'urdo si passa a fatima e si poi va a me giugorie con tanti protagonisti innanzitutto i bambini che sono stati oggetto delle rivelazioni no perché la madonna è apparsa a questi bambini ma c'è un invito bellissimo perché è un invito a tornare bambini siamo troppo grandi siamo troppo adulti siamo troppo vecchi molte volte di testa soprattutto ma quando siamo vecchi nei ragionamenti quando siamo quando non sorridiamo più quando non abbiamo la capacità di gioire tornare bambini e poi c'è un grande invito che quello di fare un po di penitenza perché questo mondo sta andando un pochetto male no e dobbiamo un pochetto ritornare parecchio e queste storie sono delle storie di speranza persone che come me hanno avuto un blocco io non credevo nella madonna perché la madonna ce l'ha avuto con me perché la madonna non mi ha ascoltato poi si trova lì e piange inspiegabilmente e scopre e scopre che lo racconteremo tra poco con le storie ma chiaramente le storie non ve le raccontiamo perché le storie vanno lette però ci sono queste protagonisti che sono protagonisti veri in carne e ossa sono protagonisti che hanno hanno vissuto quel viaggio e tornando a casa sono tornati lo ripeto ancora una volta guariti arricchiti nel loro cuore allora il luogo molto caro uno dei luoghi molto 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 cari a don francesco cristofero e per questo ci siamo andati era cittadella dell'immacolata è un centro di evangelizzazione interamente consacrato a maria siamo a bagnara calabra vicino a reggio calabria provincia di reggio calabria andiamo alla cittadella dell'immacolata insieme a voi insieme a don francesco quest'opera di maria si estende per oltre 11 ettari ed è gestita da noi dalla comunità dei piccoli fratelli e sorelle dell'immacolata siamo una comunità giovane l'età media della nostra comunità è 30 35 anni è formata da circa 50 elementi tra sorelle e fratelli e ci sono anche dei postulanti che sono in discernimento per poter consacrare la loro vita a dio e siamo anche dieci sacerdoti che siamo pronti qui per accogliere le persone per amministrare i sacramenti registriamo ogni settimana un'affluenza continua di pellegrini per ristorarsi e accogliamo anche numerosi gruppi che vogliono qui trascorrere una giornata di spiritualità sempre sotto la materna protezione della vergine immacolata sicuramente il mio arrivo qui è stato frutto di una ricerca frutto di una ricerca della volontà di dio per la mia vita ma anche frutto di un desiderio e il desiderio di consacrarmi al signore tutti i postulanti ci dedichiamo insieme ai fratelli consacrati a tutte le attività che ci sono da svolgere nella cittadella dell'immacolata inizialmente magari possiamo partire dall'accoglienza dei pellegrini ma anche riguardo anche tutto quello che si svolge all'interno della cittadella che si vede è interamente gestito e costruito insomma da da noi ognuno di noi poi si occupa di un particolare magari servizio di una particolare attività e c'è anche magari chi guida la ruspa la cittadella dell'immacolata vuole essere davvero come diceva il nostro ispiratore san massimiliano maria colbe un punto di radiazione per tutta l'umanità sofferente e qui alla cittadella dell'immacolata ci sono due polmoni il polmone della preghiera e anche il polmone della carità abbiamo in animo già di costruire questa grande chiesa e anche per l'ospice per malati terminali perché vogliamo accompagnare queste povere anime alla morte affinché possono davvero giungere nel regno dei cieli serenamente e qui la mamma immacolata li accoglie attraverso noi per poter consolarli e per poter davvero portarli nella strada della volontà di dio sicuramente la cittadella dell'immacolata è un luogo in cui si può respirare la presenza viva di maria e varcate le soglie del cancello della cittadella è un'esperienza che io ho fatto è stata proprio quella di essermi sentito subito avvolto dalla pace della madonna beh don francesco è bello questo luogo io vado tutte le volte che posso perché qui è un luogo dove il mare si unisce al cielo e dove davvero c'è la presenza della mamma di maria e loro si ispirano per me sono dei fratelli e delle sorelle voglio voglio loro un mondo di bene e ti accorgono sempre con questo sorriso e loro loro si ispirano a massimiliano maria colbe che diceva quando hai un momento di difficoltà lasciati prendere da una mano da gesù e dall'altra da maria e cammina con loro ecco questo dovremmo fare questo dovremmo fare io dico sempre i libri si leggono e quindi si può accennare si può dare più o meno un'indicazione poi ci sono libri che vanno letti letti e riletti forse libri anche da tenere costantemente sul comodino no perché andando a sfogliare queste le storie queste storie ci può essere tanto anche di noi dentro possiamo trovare anche molto di noi stessi qual è una storia che ci vuoi accennare da francesco mi piacerebbe raccontare la storia di un giovane che si chiama giuseppe giuseppe zavaia lui e calabrese queste storie tutte quelle che ho raccontato me le ha mandato e maria perché di storia ne potevo raccontare tantissime no però un giorno mi arriva un messaggino sul mio cellulare con nome e cognome registrato ma io non ricordavo chi fosse questa persona e questo ragazzo mi chiede ciao don come stai cosa ne pensi di me giugorie come anche domanda strana io però stavo cercando una storia per raccontare sulla su me giugorie e allora come mai questa domanda e lui mi dice perché di recente sono stato a me giugorie mi ha cambiato la vita ora organizzo i pellegrinaggi con i giovani e ti volevo invitare ad accompagnarci capisci allora questo io ho preso il telefono l'ho chiamato e detto senti ma tu non è che vorresti raccontarmi la tua storia io avevo capito che c'era qualcosa di bello questo ragazzo cresce in una famiglia molto povera a volte era costretto di notte dal padre ad andare a rubare nei campi gli ortaggi e la frutta dice giuseppe a volte ci mancava il gas a volte ci mancava il pane sulla tavola a volte ci mancava l'acqua calda per farci la doccia la mamma riscaldava il pentolone dell'acqua calda poi la madonna lo ha strappato secondo me dalla criminalità però a causa di un incidente ne ha avuti tre ma l'ultimo l'ha reso paralizzato dalla testa ai piedi e così per vie misteriose non riveliamo tanto ma con quasi 20 ore di viaggio arriva a me giugorie il giorno della divina misericordia questo è un libro che racconta le vie per l'appunto quindi è già nel titolo porta in sé il senso del viaggio il fatto è questo no tutti noi viaggiamo don francesco alla ricerca di qualcosa che poi alla fine torna su se stessa e cercare la nostra anima cercare noi stessi affidarci come tu dici sempre solo fatto che la si possa chiamare mamma e già porta già in sé la la soluzione del tutto no noi ti ringraziamo tantissimo per questo viaggio che tu hai fatto da si mi ricricchi per venire fin qui tornare all'ora solare e ti ringraziamo per questo viaggio lungo 18 anni che ti ha portato fino a questo compleanno così importante poi scatta 18 anni e un giorno e don francisco cristofano non si ferma mai grazie di essere stato con noi grazie davvero grazie grazie a te tanto tanto assai allora signori grazie di tutto se volete rivedere vi preghiamo di riguardarla questa puntata piena di amici piena di cuore piena di così tanto amore play 2000 dovete solo scaricare dal vostro tablet telefono oppure sul vostro computer e trovate tutta tv 2000 e tutta in blu la nostra radio in blu 2000 grazie a tutti davvero a tutti uno per uno grazie grazie di cuore